Masterplan per il Sud, è solo fumo negli occhi, sono solo vecchi fondi europei non utilizzati, ridotti e ora ripresentati come fossero nuovi. Parola del pugnace consigliere di opposizione del Comune dell'Aquila, Giorgio De Matteis, ex vicepresidente del Consiglio regionale, che interviene a tre giorni dalla firma all'Aquila da parte del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, in calcio all'elenco delle 77 opere pubbliche in tutto l'Abruzzo, che saranno finanziate con 1,5 miliardi di euro nei prossimi anni. Tutto quasi era fritta, spiega però De Matteis, sventolando un'inchiesta del quotidiano La Stampa, in cui si documenta che in realtà i 35 miliardi per le opere che saranno finanziate in tutte le regioni meridionali con il Masterplan sono quelli del Fondo di Sviluppo e Coesione, già disponibili nel 2014, ma non utilizzati colpevolmente dal governo Renzi, che nel frattempo ha anche estornato 17 miliardi di euro per altre finalità. C'è stata l'altro giorno veramente una giornata imbarazzante, nella quale abbiamo avuto modo di avere qui all'Aquila il Conte Mascetti d'Italia, che è il Premier Renzi, e il Conte Mascetti d'Abruzzo, che è il Governatore D'Alfonso. Da entrambi abbiamo ricevuto delle parole che sono oltre che imbarazzanti anche offensive. Per quanto riguarda Renzi, il cosiddetto Masterplan per il Sud è una bufala clamorosa, non lo dice Giorgio De Matteis, lo dice un autorevolissimo organo di stampa come la Stampa di Torino, che ha condotto un'inchiesta sul Masterplan, rilevando attraverso l'analisi condotta da numerosi economisti, come questi soldi che vengono dal Fondo di Coesione Sociale, siano soldi vecchi per il 75%, e peraltro dal fondo complessivo di circa 58 miliardi sono stati già tolti 17, che sono stati utilizzati dal Governo come Bancomat per le diverse esigenze. Quindi vuol dire che a fronte di questo abbiamo poco più di una trentina di miliardi, che dovranno essere utilizzati senza sapere quando questi progetti, che sono già progetti vecchi, oltre che su soldi vecchi per il 75%, sempre dall'inchiesta condotta dalla stampa, che vengono venduti come nuovi per una campagna elettorale anche abbastanza patetica.